Allora, un buon test dopo le prime quattro amichevoli tutte con società di vertice. Oggi il nostro obiettivo era sicuramente provare a imporre il nostro gioco e attraverso quello riuscire a portare a casa un risultato positivo, soprattutto in seguito alle sconfitte della prima parte di questo precampionato. A tratti siamo riusciti nel nostro obiettivo, a rinforre il nostro gioco e a cercare le trame che abbiamo provato in settimana durante gli allenamenti con il mister, le soluzioni più semplici su cui stiamo lavorando, però non sempre siamo riusciti. Sicuramente un buon test che ci aiuterà a crescere, a trovare i punti in cui possiamo migliorare il nostro lavoro e continuare ogni giorno aiutandoci, integrandoci soprattutto tra più esperti e più giovani e continuando su questo lavoro che sicuramente darà i suoi risultati.